Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Arkansas, più precisamente in una città di 200.000 abitanti di nome Little Rock. In quanto capitale dello Stato è considerata uno dei centri culturali ed economici più importanti e trafficati dell'Arkansas. Non conoscevo molto questa zona degli Stati Uniti, ma stando alle foto che ho visto su internet deve essere un'area davvero bellissima, piena di scenari naturali, laghi e natura. Per quanto lo scenario sia sicuramente meraviglioso, l'Arkansas diciamo che non gode proprio di una buona reputazione, infatti ha un tasso di povertà decisamente alto tra i più alti degli Stati Uniti. Non so sinceramente se questo tasso di povertà così alta abbia una spiegazione di qualche tipo, sociologica, magari di posizione, non ne ho idea. Tra i 200.000 abitanti di Little Rock c'era anche la famiglia Stepak, composta dai genitori Peter e Loria e i loro tre figli, Tara, Trevor e Debbie. Quando i bambini in realtà erano ancora abbastanza piccoli, i genitori avevano deciso di divorziare, di interrompere il loro matrimonio, quindi i tre bambini, come la maggior parte suppongo dei genitori di persone separate, di coppie separate, passavano una settimana a casa della madre e una settimana a casa del padre. Dopo un po' di tempo dal divorzio, Loria, la madre, conobbe un altro uomo, un uomo di nome Michael, che si integrò da subito benissimo nella famiglia, divenne anzi una parte integrante, un vero e proprio membro della famiglia. I bambini lo adoravano, avevano tutti un legame strettissimo con lui, anche perché quando Michael entrò nella loro vita, loro erano ancora piccoli, quindi chiaramente crebbero un po' con lui come figura paterna. Abby era nata il 31 marzo del 1997 e tutta la sua famiglia la descrive come una persona davvero molto ambiziosa. Fin da quando era davvero piccolissima, aveva grandi progetti per il suo futuro, voleva diventare in particolare un agente immobiliare e anzi fondare proprio una sua agenzia. Aveva una personalità molto intraprendente e infatti tutti, compresa probabilmente lei, erano convinti che nella vita avrebbe fatto grandi cose. Nel 2015 aveva 18 anni e come la maggior parte dei suoi coetanei, insomma, nella città, frequentava il Little Rock Central High School, che a quanto pare è il liceo pubblico più conosciuto della città. E tra l'altro, cosa che non c'entra niente con il video, ma avete visto che cavolo di scuola, cioè che liceo pubblico hanno? Io sono l'unica che il mio liceo pubblico da fuori sembrava tipo un edificio abbandonato da diversi anni. Sono rimasta basita da quanto sia bello, architettonicamente parlando, quell'edificio della scuola che frequentava Abby. In ogni caso, Abby frequentava quel liceo pubblico, ma in realtà lo frequentava da solo un annetto circa, prima era iscritta a un altro liceo che era un liceo privato. Non ho trovato informazioni specifiche riguardo a questo trasferimento, suppongo potesse essere, insomma, una motivazione di tipo economica, chiaramente al pubblico si paga meno che al privato. E in America le scuole private costano di più, cioè se già comunque in Italia le scuole private costano di più, in America proprio parliamo di probabilmente qualche zero in più nella retta scolastica. Comunque era una bravissima studentessa, era una ragazza molto intelligente, andava davvero bene a scuola, anzi aveva deciso addirittura di aumentare il numero di corsi che frequentava. Lì ogni studente può scegliere che tipo di corsi aggiungere, cosa frequentare, a che livello. Ecco, lui aveva deciso di aggiungere altri tre corsi, tutti i tre corsi dove studiava delle lingue diverse. Studiava infatti lo spagnolo, il turco e l'ebraico. Aveva anche diverse passioni, secondo quanto ho trovato su internet, quelle che vengono ricordate di più dalla sua famiglia sono la passione per la musica e per la fotografia. Ho letto infatti che ad un compleanno, quando era molto piccola, si era fatta regalare una macchina fotografica e da quel giorno in poi si faceva un po' portare in giro in mezzo alla natura, in spiaggia, sul lago per fare delle fotografie. Il più grande dei tre fratelli era Trevor, che lavorava già, insomma aveva una vita indipendente, quindi viveva in un appartementino da solo. Questa cosa era piaciuta a Debbie, cioè le era piaciuto il fatto che suo fratello fosse di fatto indipendente economicamente, avesse la sua casa, la sua vita eccetera, quindi praticamente negli ultimi anni aveva pressato i suoi genitori per permetterle di, anche lei insomma, vivere da sola, avere una vita. Chiaramente nel 2015, quando inizia il nostro caso, lei aveva 18 anni, quindi comunque era ancora abbastanza giovane, i genitori non volevano che andasse già a vivere da sola, però per darle un po' la possibilità di sperimentare cosa volesse dire vivere da soli, gli permettevano ogni tanto di andare a passare qualche giorno, quando voleva lei, insomma, a casa del fratello Trevor. In questo periodo, nel 2015, Abby inizia ad affrontare quella che personalmente definirei un po' come una fase ribelle. Tutte le sue amiche, comunque la maggior parte delle sue amiche, andavano in discoteca il venerdì sera, lei voleva andarci ovviamente, ma i suoi genitori non volevano. Ora a me è venuto un dubbio, nel momento in cui sto filmando il video, non so se in America devi avere tipo 21 anni per andare in discoteca, sapete che lì la maggior età funziona diversamente che qui. Se qualcuno lo dovesse sapere, lo scriva nei commenti. In ogni caso, lei voleva andare a queste serate in discoteca, i genitori non volevano. Non so se non volessero perché effettivamente è illegale in America andare nelle discoteche sotto i 21 anni, o perché semplicemente non volevano facesse tardi, che uscisse da sola la sera. Quindi loro glielo impedivano, lei cosa aveva iniziato a fare? Diceva ai genitori che avrebbe passato la sera, la notte, insomma, a casa di un'amica, e poi andava alle feste senza il permesso e senza che i genitori lo sapessero. Da queste uscite iniziò a frequentare un gruppo di amici di persone molto più grandi, sui 25, 26, 27, anche 30 anni. Cosa che ovviamente non andava per niente a genio ai suoi genitori, sia per il fatto che non volevano che uscisse la sera, sia per il fatto che queste persone comunque avevano un bel po' di anni in più di lei. Si creò quella classica dinamica in situazioni simili, dove lei sembrava quasi ribellarsi e fare delle cose appositamente per dar fastidio ai genitori, per creare una situazione in cui i genitori le avrebbero detto no, non ci puoi andare, lei comunque sarebbe riuscita in qualche modo a ingannarli e uscire da sola. Si creava un po' un circolo vizioso, i genitori le proibivano di fare qualcosa, lei probabilmente anche per il fatto che vedeva quella cosa come proibita, la faceva ancora di più, i genitori la scoprivano, si arrabbiavano, la mettevano in punizione, lei in qualche modo riusciva comunque a dire una bugia e uscire e insomma questo ciclo continuamente fino all'esaurimento praticamente dei genitori. Cosa che aveva iniziato a fare anche ultimamente, che di nuovo dava ancora più sui nervi sui genitori, era marinare la scuola. Marinava la scuola per uscire con questa compagnia di ragazzi più grandi che chiaramente non andavano più al liceo, non avevano orari tra virgolette scolastici, quindi lei semplicemente usciva di casa, diceva che sarebbe andata a scuola e poi andava da altre parti. Arriviamo così fino all'ottobre del 2015, più precisamente il 23 ottobre. Era un venerdì e come quasi tutti i venerdì i suoi amici andavano insomma in qualche discoteca, in qualche club a passare la serata. Sapendo che i suoi non le avrebbero dato il permesso, disse insomma la classica bugia, mi fermo da... e poi ovviamente andò a questa festa. Purtroppo quella sera accade qualcosa di davvero terribile. Abby tornò a casa dai genitori il 24 mattina. A quell'ora in cui tornò a casa c'era solo Michael, il suo patrino, il compagno di sua madre, e arrivò proprio sconvolta, cioè stava piangendo, era sul limite proprio di un attacco di panico. Michael chiaramente tentò di tranquillizzarla, di farla calmare, di farsi spiegare che cosa fosse successo. Lei all'inizio non glielo voleva dire, insomma alla fine Michael riesce a tirargli fuori quello che era successo. Lei gli racconta che quella sera era stata aggredita da un gruppo di quattro uomini e avevano abusato sessualmente di lei. Abby racconta anche che uno di questi quattro aveva filmato il tutto con il suo cellulare. Michael chiaramente tentò di calmarla, le disse subito andiamo ti porto alla polizia, sto con te, fino alla fine insomma ti sto vicino, denunciamo subito questa cosa. E lei gli disse che voleva assolutamente denunciare ma che non era ancora pronta. Avrebbe avuto bisogno di qualche ora per affrontare emotivamente la situazione prima di andare in centrale e ripercorrere di nuovo tutto a parole, chiaramente per sporgere denuncia. Michael chiama anche la madre di Abby, arriva anche lei, cercano di convincerla, andiamo subito, prima denunci meglio è, non diventerà più facile farlo man mano che passano le ore. Niente, non c'è stato verso di convincerla ad andare subito. Disse che sarebbe andata, che si sarebbe rifatta sentire, ma aveva bisogno di qualche ora per chiarirsi le idee, per farsi una passeggiata e non pensarci più. Ovviamente è sempre meglio denunciare subito, però posso capire che dal punto di vista di Michael e della madre di Abby fosse comprensibile che la ragazza avesse bisogno di un attimo per raggruppare insomma i pensieri. Il fatto sta che Abby a questo punto esce di casa, sale sulla sua macchina e parte. E quella purtroppo sarà l'ultima volta che la vedranno viva. Passano le ore e la famiglia inizia a preoccuparsi. A questo punto avevano già provato a mandarle un messaggio, a chiamarla, tutte le chiamate ai messaggi vengono assolutamente ignorati da Abby. Inizia a insinuarsi un pensiero in loro. Da quanto ho letto, la prima persona a pensare questa cosa fu Michael. Venne loro il dubbio che magari Abby avesse deciso di prendere la situazione, diciamo, e andare da queste persone che l'avevano aggredita per richiedere quel video. E per quanto sia una cosa assurda, cioè chiaramente confrontare di nuovo queste quattro persone, a molti può sembrare un pensiero incomprensibile. Secondo sua madre, che la conosceva e anche Michael, era davvero nel personaggio, tra virgolette, nel carattere di Abby, pensare di essere in grado di gestire una situazione da sola senza chiedere aiuto. Avevano paura che fosse andata da loro, magari li avesse minacciati, che gli avesse detto se non mi date il video vado alla polizia. Insomma, poteva crearsi una situazione davvero molto pericolosa. Iniziano a preoccuparsi moltissimo, iniziano a valutare se non fosse il caso di chiamare e parlare direttamente loro con la polizia, fino a quando verso le 18.20 Michael riceve un messaggio da Abby. In questo messaggio lei gli dice di essersi finalmente decisa di voler andare dalla polizia, gli chiede quindi di incontrarsi davanti alla centrale perché non voleva farlo da sola, voleva che lui stesse di fianco a lei per tutto il processo. Quindi tutti sono sollevati ovviamente da aver sentito finalmente Abby. Michael le dice non c'è problema, arrivo subito, sale in auto e va verso la centrale. Michael aspettò e aspettò per diverse ore. Abby non si presenterà mai. Sappiamo anche che pochi minuti dopo quel messaggio che Abby inviò a Michael, partirono anche due chiamate dal telefono di Abby, tutte e due al 911. E faccio questa faccia perché la polizia in questo video, vi giuro non penso di essermi mai, mai arrabbiata così tanto con le autorità, come mentre stavo preparando questo video e penso che la cosa si trasmetterà anche in video. Non ho mai sentito di un caso dove ci sono state così tante incompetenze e non professionalità da parte della polizia. Fatto sta che Abby sappiamo per certo, di per certo, perché ci sono le chiamate sul telefono, cioè che sono partite dal telefono di Abby al 911. Queste due chiamate entrambe sono durate circa due minuti, però non c'è registro di queste chiamate. Sapete che le chiamate al 911 vengono chiaramente registrate perché sono delle cose molto importanti. Queste due chiamate non sono state registrate e non solo, non c'è registro archivio, non c'è stato segnato da nessuna parte che qualcuno abbia parlato con Abby. Nessuno si ricorda, in centrale dico, si ricorda di aver ricevuto queste due chiamate che sappiamo al 100% che sono arrivate perché lo dice il telefono di Abby. Quindi le situazioni a questo punto sono due. C'è una situazione generale che sappiamo comprovata che in qualche modo in quel periodo o magari quel giorno o magari in generale la polizia di Little Rock non registrava le chiamate, cosa che non dovrebbero fare, chiaramente c'è dovrebbero registrarle, non è che un poliziotto può decidere cosa registrare e cosa no. La cosa più grave è che o quelle due chiamate non hanno ricevuto una risposta, cioè le hanno messo Abby in attesa, di fatto nessuno ha effettivamente parlato con lei, oppure a quelle due chiamate un qualcuno ha risposto e evidentemente non ha dato peso a quella chiamata e ha di fatto abbandonato Abby in un momento di bisogno. E se questa cosa inizia a farvi scaldare, tranquilli perché nel video non avete neanche idea. In ogni caso a questo punto la famiglia di Abby chiaramente nel panico, sono tutti agitati, chiamano la polizia per denunciare loro la scomparsa di Abby. Immagino sappiate già dove voglio arrivare a questo punto, ma la polizia non prese per niente seriamente questa scomparsa. Dissero continuare una direnata per un bel po' di tempo alla famiglia che probabilmente era scappata, che aveva bisogno di tempo e che sarebbe ritornata, nonostante tutta la famiglia continuasse a dire alla polizia che non era da Abby, Abby non sarebbe mai scomparsa semplicemente così senza rispondere alle loro chiamate. Fatto sta che il giorno dopo ebbero effettivamente sue notizie. Abby chiamò suo fratello Trevor al cellulare, suo fratello si trovava a casa in quel momento. Lo chiama verso le due del pomeriggio. Trevor ovviamente appena vede il nome di Abby si sente sollevato e risponde subito al telefono, ma sua sorella gli sembra un po' disorientata, cioè sembra che come se non fosse in grado di concentrarsi su quello che stava dicendo. Ebbe da subito l'impressione che avesse assunto probabilmente un qualche tipo di droga, magari di alcol, o qualcuno, insomma, gliel'avesse fatta assumere. Trevor le chiede subito, c'è qualcuno con te? Sei da sola? E lei non riesce a rispondergli, cioè boffonchi un po' delle cose ma Trevor non la capisce. Le chiede allora dove ti trovi, ti vengo a prendere subito, dammi un indirizzo. Lei gli dice che si trova davanti a casa sua, cioè davanti a casa di Trevor. Lui ovviamente si precipita subito in strada, non la vede da nessuna parte, mentre fa questa cosa ebby chiude la chiamata. Lui ovviamente la richiama subito ebby risponde di nuovo. Lei gli dice di essere parcheggiata in auto, non è ben sicura dove. L'unica cosa che gli dice è che si trova nella sua macchina. Prima che Trevor possa chiederle qualsiasi altra cosa, lei dice sono nei casini, cioè in realtà è un termino un po' più forte, dice I'm fucked up, e poi chiude la chiamata. Chiude la chiamata per la seconda e purtroppo per l'ultima volta. Questa sarà l'ultima volta che qualcuno la sentirà. Trevor ovviamente riprova subito a chiamarla, però lei non risponderà mai. Suo fratello la cercherà ovunque l'intorno perché a questo punto aveva questa informazione che lei si trovava nella sua auto, quindi ha pensato magari ha parcheggiato da qualche parte qua intorno, non proprio davanti a casa mia, si mette a fare tutti i giri possibili del quartiere, non vede la sua macchina da nessuna parte. Ebby quel pomeriggio tra l'altro avrebbe dovuto avere un impegno con una sua amica, un appuntamento, però come potete già immaginare non si presenterà nemmeno a quell'appuntamento. La polizia purtroppo continuò a non far niente, anzi quando Trevor contatta subito la polizia dicendo dovete cercarle, è successo qualcosa, l'ho sentita, mi ha detto questo, questo e questo, la polizia gli dirà semplicemente vedi questa è la prova che è scappata di casa, ti ha chiamato, magari ha dei problemi con la droga, è andata da qualche parte a drogarsi e non ve l'ha detto, insomma continuano a sminuire questa situazione. Per i giorni successivi le ricerche verranno condotte solo ed esclusivamente dalla famiglia di Ebby, cosa che mi è capitato relativamente poche volte nei casi che ho trattato, ma ogni volta mi spezza il cuore immaginarmi questa famiglia che già deve essere devastata per quello che sta affrontando, per il fatto che un loro membro, una figlia in questo caso è scomparsa, non sanno dove sia, sono già preoccupati e devastati da questa cosa, in più devono organizzare una ricerca totalmente da soli, senza l'aiuto della polizia e senza l'autorità che ovviamente ha la polizia, l'ho detto già un paio di altre volte, un poliziotto anche semplicemente può andare a richiedere a qualcuno delle videocamere di sorveglianza, cosa che un privato cittadino non può fare. In più c'è oltretutto a questa cosa qui il sentimento di abbandono che devono aver provato da parte dell'autorità, da parte di persone che sono lì per fare il loro lavoro, per proteggerti, per aiutarti e continuano a dirti, a sminuire la cosa che sicuramente è scappata e che tornerà. Purtroppo tutte queste ricerche organizzate da famiglia, parenti, conoscenti eccetera, non porteranno a niente. Il 27 ottobre, una guardia, un guardiano notturno, penso sì, no non notturno, una persona che per lavoro doveva tenere sott'occhio, controllare una zona che si chiama Shalamont, vicino a un parco, una zona che al tempo era ancora praticamente un cantiere unico, nel senso che al tempo non ci viveva nessuno ma stavano costruendo un sacco di case. nota una macchina, nota questa macchina che era un paio di giorni che era ferma lì, quindi come da suo impegno professionale, se si dovesse trovare una situazione del genere, dovrebbe chiamare la polizia e dire guardate qualcuno ha abbandonato questa macchina qua. Ed è esattamente quello che quest'uomo fece, perché a quanto pare in questo caso tutti fanno il loro dovere, meno la polizia. Quindi quest'uomo chiama la polizia e dice c'è una macchina, dice il tipo della macchina, dice la targa che è qua da due giorni. Ora, se il poliziotto che ha ricevuto questa chiamata avesse fatto il suo lavoro, cosa sarebbe successo? Che avrebbero cercato questa targa nel database per vedere se qualcuno l'aveva segnalata, se qualcuno aveva segnalato il furto di quell'auto, cose del genere. E cosa sarebbe successo? Cercando la targa sarebbe venuto fuori che quella macchina era collegata al caso di Abby, perché quella macchina, vi dico già, era la macchina di Abby. Cosa fecero? I poliziotti al telefono con quest'uomo gli dissero sì sì, arriviamo. Questo povero uomo aspettò per le successive due ore, non arrivò nessuno, lui aveva finito il turno a quel punto, quindi se ne andò a casa. Il giorno dopo riarrivò in quella zona per iniziare il suo secondo turno e la macchina era ancora lì, nessuna traccia di poliziotti. Quindi questo sant'uomo richiama di nuovo la polizia, la polizia gli dice sì sì, adesso arriviamo, passano un po' di ore, finalmente i poliziotti arrivano. E a questo punto, solo il giorno dopo che fanno questo controllo, e si rendono conto che quella macchina era proprio la macchina di Abby. E le cose strane non finirono lì, perché la macchina era totalmente senza benzina, proprio a secco. totalmente senza l'elettricità, cioè nel senso la batteria della macchina era totalmente scarica, le chiavi della macchina erano inserite, come se fosse stata abbandonata lì di punto in bianco quell'auto, e sul sedile del passeggero trovano il cellulare di Abby. Finalmente con questo ritrovamento a tre giorni dalla scomparsa di Abby, a questo punto, la polizia inizia a fare due più due, a capire che forse, forse, non si trattava di una persona che era scappata di casa. E' a questo punto che si mettono a cercare in tutta l'area di Shalaman Park. O meglio, questo è quello che hanno detto. Dico questo è quello che hanno detto, perché io so già come andremo a finire. Il fatto sta che diranno di aver cercato in lungo e in largo, in ogni dettaglio di quell'area, e diranno di non aver trovato assolutamente niente di riconducibile a Abby. E ovviamente il dubbio che queste persone, questi poliziotti, non abbiano cercato affatto, non mi viene solo perché so quello che succede dopo, ma anche perché finora non è che abbiano proprio dimostrato una professionalità proprio impeccabile. In ogni caso, il telefono di Abby, chiaramente lo analizzeranno, troveranno dei messaggi inviati a quattro uomini. In questi quattro messaggi inviati da Abby, lei li minacciava praticamente, diceva loro che sarebbe andata alla polizia a denunciare quello che era accaduto, a meno che non le avrebbero dato il video, insomma, che avevano girato e non avessero cancellato tutto il resto, insomma, dal loro telefono davanti a lei. Le risposte di questi quattro uomini a questi messaggi non sono note, quindi non le so, non ci sono su internet, rimarranno probabilmente, non lo so, protette dalla polizia per questo processo. Fatto sta che gli ultimi due messaggi inviati da Abby, e saranno due messaggi inviati poco dopo quel messaggio che aveva inviato a Michael, dove gli chiedeva di incontrarsi davanti alla centrale della polizia, e in questi due messaggi erano due messaggi uguali, inviati a due di queste quattro persone, dove diceva loro, sto andando alla polizia per denunciarvi. Purtroppo il contenuto della risposta di queste persone non è l'unica cosa che non si sa del caso, non sono stati rilasciati neanche i nomi di queste persone. Ufficialmente, sempre secondo, stando a quello che è stato detto dalla polizia, queste quattro persone sono state interrogate in merito alla situazione, ma non hanno trovato niente che in qualche modo potesse aiutare le indagini. Fatto sta che qualsiasi cosa, se effettivamente queste persone sono state interrogate, si sono basati solo sulle loro parole, perché non è stata fatta nessuna indagine sul loro conto, non hanno tracciato i loro GPS per vedere se gli alibi che spero gli abbiano richiesto fossero effettivamente veri, non hanno cercato nei loro telefoni, nel loro computer, quel video di Abby, perché a questo punto avevano un'evidenza abbastanza lampante, ovvero i messaggi di Abby, dove lei chiedeva loro di dargli quel video. Non è stato fatto niente, cioè se effettivamente sono stati svolti questi interrogatori, io mi immagino siano andati così. C'entra qualcosa con la scomparsa di Abby? No, grazie, arrivederci, perché è l'unica cosa che può essere successa. Altra cosa che non faranno, non sentiranno nemmeno un testimone, non sentiranno, non parleranno neanche con la persona che ha, il guardiano che ha segnalato la macchina per sapere se avesse notato o sentito qualcosa, non parleranno con neanche uno dei muratori che lavorava in quelle zone lì, per sentire se era successo qualcosa, avessero visto magari Abby, avessero visto dei movimenti sospetti, niente. I genitori ovviamente erano devastati dalla poca cura, dalla poca attenzione della polizia, dei detective nell'indagine. Fatto sta che tenteranno di raggiungere l'opinione pubblica andando al programma Dr. Phil, che in Italia forse non è conosciuto molto, però in America è ipervisto, molto criticato, anche però molto molto seguito, quindi andarono lì per raccontare il caso, la storia, la situazione di Abby. Non so sinceramente come sia possibile che non siano intervenute altre persone da fuori, non lo so, fatto sta che non riusciranno a raggiungere l'attenzione sperata partecipando a questo programma. Tra l'altro la famiglia stessa metterà mano ai propri risparmi, a tutti i soldi che potevano raccimolare per fissare una ricompensa a 50.000 dollari per qualcuno che, cioè per convincere di fatto se qualcuno avesse visto sapesse qualcosa a farsi avanti per aiutare le indagini. Ora, questa parte qui, vi avviso, fa davvero arrabbiare. Dato che a questo punto l'incompetenza della polizia era lampante a chiunque, non solo alla famiglia, anche alle persone che seguivano il caso, anche alle persone che semplicemente conoscevano Abby, le persone iniziarono un po' a indagare per conto loro. In particolare una signora, che era la madre di un'amica di Abby, decise di, su richiesta anche di sua figlia, di andare a fare un giro per questa zona di Shalamant per cercare di vedere con occhi se effettivamente non c'era niente. Praticamente madre e figlia si mettono un po' a girare nella zona, ma proprio molto poco, perché adesso vi metterò una foto, ovviamente, ma a letteralmente 60 metri, una roba del genere, da dove era stata ritrovata la macchina di Abby, iniziarono a sentire un odore molto forte. Un odore che questa signora riconobbe positivamente come un odore di decomposizione. E seguirono questo odore e fu chiaro che arrivava praticamente da una sorta di tubo di drenaggio, un tombino, non so come descrivere la parola e vi metto ovviamente la foto. Avete presente It, il film, quello del pagliaccio, sapete che sbuca fuori da quella sorta di tombino, non so come descriverlo diversamente. Ecco, da lì arrivava quell'odore. Ed era un tubo di drenaggio, non so se sono tutti fatti così, ma praticamente sopra questa cosa c'era una sorta di tombino proprio rotondo, classico, che si poteva, cioè ovviamente molto pesante, non so se avete mai sollevato un tombino, però sono decisamente pesanti, però nel caso di manutenzione, quando magari tra foglie o robe, insomma qualcosa si intasa, gli addetti possono aprire sto tombino, andare sotto e pulire. Seguitemi adesso. Dato che questa signora riconosce l'odore di decomposizione, cosa fa? Tira su subito il telefono, chiama e segnala questa cosa. 9-1-1, what's the location of your emergency? I just came out of a meeting with Detective Williams in regard to a missing person named Eddie. Okay, yes ma'am. He said that the car was located in this park, and I brought my daughter here, who's a friend of hers, and we just started walking around and I can smell the composition, so I was just trying to call his phone and he didn't call me back. Okay, I want to see what, who we need to get out there and then I will call you in just a few minutes and... Come avete sentito dalla chiamata? Il polizioso gli dice, sì guardi, sento i miei superiori e mi rifaccio vivo io. Richiamerà dopo un bel po' di tempo e dirà a questa signora che non poteva trattarsi in nessun modo di qualcosa correlato ad Abby perché quella zona era stata analizzata nei minimi dettagli, centimetro per centimetro, con cani K9 addestrati a riconoscere l'odore della decomposizione. Quindi non era assolutamente possibile che si trattasse di Abby. La cosa che mi fa infuriare ancora di più è che, questa cosa che sto per dirvi che chiaramente verrà fuori un po' dopo, però in ordine cronologico ve lo dico adesso, nei giorni un po' precedenti e diversi giorni successivi un sacco di persone che passavano nell'area segnalarono questa cosa alla polizia. Un sacco di gente disse, venite a controllare, non so se c'è un cane morto, un gatto, un animale che è finito là sotto e è morto, ma questo è odore di decomposizione, venite a controllare. E immaginate quante persone, quanti poliziotti andarono a controllare? Zero, ovviamente. Dovranno passare anni, anni, prima che delle persone che non erano poliziotti andarono a controllare questo maledetto tubo di drenaggio. Andarono a controllarlo semplicemente per manutenzione, perché passano gli anni, iniziano a trasferirsi un po' di persone in quelle case che erano in costruzione, c'era qualcosa che non andava in quel tubo, quindi chiamano il personale che aprono questo tombino e vanno a controllare sotto, a cercare di pulire, eccetera. Cosa trovano? Dei resti umani, delle ossa a questo punto, perché sono passati anni. Era il 24 maggio 2018, quindi anni dopo, e soprattutto durante tutto questo tempo, la polizia non aveva fatto assolutamente niente. Chiaramente quest'uomo che si ritrova dei resti umani lì, chiama la polizia, finalmente la polizia va a controllare questo maledetto tombino. Ci vorranno delle analisi per confermare l'identità di questo corpo, anche se, avendo trovato la macchina di una persona scomparsa anni prima a 60 metri da lì, vabbè, fatto sta che queste analisi dimostreranno che si trattava proprio di Abby. Il fatto che ormai erano passati anni non aprì spazio a delle indagini, perché non c'era più possibilità di trovare il DNA di qualcun altro sul suo corpo, non c'era più nemmeno la possibilità di capire la causa del decesso, perché a questo punto erano ossa. Non ho parole della quantità di cose che sono state tralasciate in questo caso, si potevano fare un macello di cose, si poteva parlare con le persone, le ho già dette queste cose, però sono davvero, non lo so, sono davvero sconvolta del fatto che nessuno in polizia abbia fatto niente, cioè che si è dovuti arrivare a questo punto anni dopo. Potevano, sono davvero convinta al 100% che era un caso che si poteva risolvere in una settimana, al 100%, se avessero seguito, insomma, se avessero fatto il loro cavolo di lavoro. Avevano già quattro sospettati, quattro persone, nome, cognome, messaggi incriminanti dove si faceva riferimento al fatto che la sera prima l'avevano violentata, niente. Arriviamo alle teorie di questo caso perché purtroppo questo caso ancora oggi rimane aperto, rimane senza sospettati, senza niente praticamente. La teoria dei detective, la volete sentire? La teoria della polizia? Che Abby si è fatta di qualche cosa e che in preda a qualche paranoia si è infilata nel tombino, cioè ha aperto il tombino da sola, si è infilata ed è morta lì. Per quanto fantasiosa e inconcepibile sta teoria, perché io vi ho detto prima, non so se avete mai provato a alzare un tombino, ma sono pesantissimi. Lo stesso il signore che per lavoro è andato quando l'hanno chiamato ad aprire sto tombino e che ha trovato le ossa, per alzare quel tombino ha usato un macchinario apposta, tipo una sorta di cric, però fatto apposta per tirare su un tombino. E quell'uomo era un uomone adulto ben piazzato. Io vi ho messo ovviamente delle foto mentre che parlavo, ma Abby era una ragazza di 18 anni, magra, minuta, non sarebbe mai riuscita a tirare sul tombino da sola e ovviamente non si sarebbe riuscita a infilare in quello spazio che c'è, perché è davvero piccolissimo. Seconda ipotesi, non della polizia, ovviamente, della famiglia di Abby. Uno dei quattro uomini o l'ha uccisa volontariamente per coprire il fatto che lei stava per andare a rinunciare, eccetera, o magari la voleva solo spaventare, la voleva minacciare e alla fine, per sbaglio, tra virgolette, ha finito con l'ucciderla. Questa teoria ovviamente si amplierebbe, potrebbe essere uno dei quattro uomini, potrebbero essere due, tre o tutti e quattro. Terza ipotesi, che è nata forse un po' dal web, tra virgolette, è che qualcuno di esterno alla situazione abbia approfittato di lei, abbia fatto il tutto. Magari questa ipotesi, che io non... Così, sulla base di quello che si sa che è davvero poco, mi verrebbe da pensare che potrebbe essere la situazione, magari ebbi scosso ovviamente da quello che era appena accaduto, aveva preso qualcosa, ovviamente, di sostanze, un po' magari allucinogene e così, magari aveva fatto quella chiamata a Trevor, effettivamente sotto l'effetto di qualche sostanza che aveva preso lei, assunto lei volontariamente. Qualcuno l'aveva trovata magari in quella situazione, aveva approfittato di lei? Non lo so. Secondo me, le ultime due teorie comunque sono più plausibili della prima, che vedono una diciottenne che è in grado di sollevare chissà quanti chili di tombino, infilarsi dentro, chiudersi, non chiamare aiuto, e morire di fame di fatto lì sotto. Anche perché, piccola cosa sull'ipotesi 1, se questa ipotesi fosse vera, ok, cioè ha preso qualcosa, una sorta di allucinazione un po' paranoica, mettiamo che avesse davvero questa forza enorme per alzare sto tombino, infilarsi e richiuderlo poi da dentro, arriva il giorno dopo, l'effetto è passato, lì ci sono un sacco, c'è il vigilante, come vi dicevo, c'erano i muratori, era una zona comunque frequentata, non di notte, di notte non c'era nessuno, però di giorno era molto frequentata, quindi ok, lei si chiude, il giorno dopo si sveglia, non chiama aiuto, non si fa sentire dalle persone che lavoravano, io vi metterò le foto, ma lavoravano davvero a pochi metri da lì. In ogni caso, Trevor, il fratello di Abby, purtroppo è morto pochi anni dopo, all'età di 35 anni di infarto, probabilmente quello che ha dovuto, insomma, affrontare ha messo davvero alla prova la sua salute. La madre continua ancora tutt'oggi ad essere molto attiva, per cercare di tenere alto il nome e del caso di sua figlia. I quattro uomini non hanno ricevuto nessun tipo di ripercussione, nemmeno per le violenze, che la polizia continua a chiamare presunte violenze, perché dicono che non ci siano le prove, perché sì, non hanno trovato il video, però ci sono gli scambi dei messaggi di queste persone. Non so come sia possibile, come vi ho detto prima, sono convinta al 100% che se la polizia avesse fatto il suo lavoro, era un caso che si poteva risolvere davvero in molto poco tempo, invece ci troviamo ad anni di distanza, che ancora non c'è stata giustizia per questa ragazza. Sono molto curiosa di vedere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere in generale cosa ne pensate e quale delle ipotesi pensate che sia più verosimile, o magari c'è qualche altra ipotesi a cui non ho pensato, che non ho trovato su internet. Ovviamente se siete d'accordo con la prima ipotesi, fatemi sapere come mai. È bello il dialogo anche quando non si hanno opinioni, insomma, uguali. Per il caso di oggi era tutto, come al solito se volete sostenermi, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, potete seguirmi sulle altre varie piattaforme. Vi ricordo che è uscito il secondo episodio di Red Room, trovate il link, è un podcast, il podcast che tengo con Andrew Files. In descrizione ovviamente trovate tutti i link, per ascoltarlo sulle piattaforme audio, oppure su YouTube, perché è anche un video podcast, quindi potete vederlo. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video. Grazie a tutti.